Come investiamo a Benevento 50 milioni di euro per creare un hub internazionale che potrebbe prendere la pizza a tutti i consumatori? Abbiamo deciso di investire oltre 200 milioni di euro di questa direzione per prendere ai consumatori e al mondo più prodotti, non solo San Pellegrino che tutti sappiamo ma anche Baci Perugina e pensiamo molto e incrediamo molto per la possibilità in Buitoni. Grandissima sfida e in questo noi abbiamo giocato e giochiamo con la società, con la Nestlé, giochiamo con quest'idea un po' che si hanno del governo nazionale e di quello regionale è una grande scommessa e speriamo che parta da Benevento una grande scommessa anche per il Sud. I nuovi posti di lavoro che si annunciano sarebbero già di per sé confortanti, 150-200 unità ma invece è molto più confortante per il territorio negare, legare in esso anche altre attività che possono essere coinvolte nella distribuzione, nella confezione del prodotto della pizza che viene esportata nel mondo intero. È una sfida entusiasmante che deve coniugare questo sapere agroalimentare di questa terra magnifica con una tecnologia avanzata. È un progetto ambizioso e l'ambizione è coniugare questo sapere culinario italiano con la tecnologia più avanzata e questa coniugazione tra italianità e tecnologia saranno i veri ingredienti del successo. È una sfida importante per Benevento, per la campagna, per il mezzogiorno ma per il nostro paese. Testimonia che una grande multinazionale trova importante, decisivo nella sua strategia industriale investire in Italia su un prodotto tipicamente italiano. Il Governo e la Regione sono a sostegno di questo investimento e credo che sarà importante per questo territorio e, ripeto, per il nostro paese. L'impegno di Comindustria Benevento a fianco della Nestlé sarà un impegno forte, sinergico, collaborativo perché sappiamo che investimenti del genere coordinati con il Ministero dello Sviluppo Economico, con Invitalia e la Regione Campania possono intanto che far bene al nostro territorio perché ha bisogno di realtà imprenditoriali che vengono qui a investire, soprattutto in questo caso con la pizza. In Italia, in un tempo molto breve e con soddisfazione di tutti, ha sostenuto questo importante investimento in un'area in cui investimenti di queste dimensioni sono molto rari che contribuisce alla evidente ripresa della crescita non solo in Italia ma anche, o se volete, soprattutto nel mezzogiorno.